Musica Hello guys, Randy Rana here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Questo sembrava molto gangsta come cosa Allora, siamo praticamente a metà mappa Perché abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 e 5 su 1, 2, 3, 4, 5 in totale 10 Quindi siamo esattamente a metà mappa Allora ci mancano Adventure, Trivia, Escape, Survival e Boss Battle Io sono indeciso su Trivia e Escape, Trivia non so che cazzo sia Quindi quasi quasi io andrei un attimo a cercare di capire che cosa cazzo è Trivia Salve Trivia, andiamo Oh no Allora Il Trivial Le domande Che cosa brutta brothers Depressor Plate Praticamente Ah così moriamo, ok Praticamente se diamo quella sbagliata si fa proprio bam Allora, per ogni 10 quest Per ogni 10 domande No, domande guadagnate Avrai un checkpoint E quando completerai tutte le domande correttamente avrai la lana verde o lime o quello che sia Non usare delle ricerche tipo wikipedia eccetera eccetera Va bene brothers va bene Allora Ehm Quale cazzo è la question? Però Cioè la domanda Kill me now Ok qua muoio Qui Andiamo avanti Allora Ok let's start Qual è il gioco a cui stiamo giocando? Minecraft Ehm Avrei Ero tentato di dire Starcraft Eh però non lo so Ehm Quando è stato rilasciato Minecraft 2009 mi sembra Oh mamma mia Mamma mia Rendi tu Sì che ce la fai Ehm Chi ha creato Ehm Minecraft Nat Eh come cazzo Ah Come cazzo si chiama? Noce Però Ehm Come si chiama Veramente noce? Nathan Adams Grazie Proprio Questo è proprio da Da Beh Fico Fico Molto figo Allora Sì Ehm Poi qua abbiamo detto Stiamo giocando a Minecraft A casa mia Però adesso Stoppa un attimo Perché sento dei rumori Oscene fuori Due secondi Ok però Ehm Scusate Ma stavo Ehm Andando a chiudere la porta Allora abbiamo detto Che Minecraft è stato rilasciato nel 2009 Perfetto Allora Non è Peter Mojang Quello che l'ha rilasciato Marcus Persson Sì Sì Ok Ehm The name of the action block This room And stone Ehm Sky 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 Perché me lo ricordo Dalle vecchie Dalle vecchie Ehm Dei vecchi giochi Ehm Come si chiamano Ehm I blocchi In questa stanza Ah Chiseled stone brick Circol stone brick Chiseled stone bricks Decorative stone Stone bricks Penso sia questo Bam 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 Ok Ehm Che cosa Which of them Ehm It requires the last amount of Mmm Allora Brent ci chiede Che cosa Richiede più Più legno Più legno Per essere Craftato Tra queste varie cose Le fence Sarebbero le Ehm Le staccionate Giusto Quindi dovrebbero essere queste No 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 Scherzavo Salve No Niente Non era questo Ok Torno lì E vediamo Brothers Due seconds Ok Guys Allora Ho fatto effettivamente Un errore di traduzione Non era quello che richiede più Pezzi Per essere Fatto Ma quello che richiede Meno pezzi Per essere fatto Quindi Effettivamente Avevamo ragione Quando dicevamo Ehm Fence Anche se Forse sono le ladder Quelle che ci vogliono di più Perché vogliono 6-7 Infatti questi sono Quelli che ci vogliono di meno Penso sia la trapdoor E invece no E invece no E invece assolutamente no Ma scusate Ma le slab Le slab Ah effettivamente Le slab vogliono solamente Tre pezzi Avete ragione Mi ero Mi ero Sconfusionato Mi ero Proprio sconfusionato Allora qua Che cazzo è che Marcus Persons Sky Ok E andiamo Abbiamo detto qua Childstone Bricks Ok E qua abbiamo detto Che le slab Sono effettivamente Quelle che ne vogliono di meno Perfetto Allora Quando Nello gioco normale Di minecraft Cosa non puoi fare Nel nether Non puoi dormirci Sicuramente Vediamo le altre risposte Piazzare l'acqua Anche Non puoi Allora sicuramente Non puoi mettere l'acqua Perché Cavoli Cavoli Brothers Allora Scusatemi Allora Sicuramente Non puoi dormire Nel nether E questo È sicuro Non puoi rompere Un albero Non puoi neanche Piazzare dell'acqua Mettiamo Non si può dormire Ok 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 Forse era proprio Quello che ci Forse tutte le cose Dopo sono state implementate Non lo so Ehm Allora La spugna Ehm Ah fermi 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 E la spugna Ah si Ehm La spugna Non è stata usata Molto Perché Ehm Praticamente Mh Is the share The placing Mh Perché 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 Non si poteva Io mi ricordo Che non si poteva rompere Però non so Assolutamente Che cavolo Di suono Faccia Perché sound effect With which block Mettiamo Non lo so Mh Non lo so Farà Il rumore Dell'adverto E mi sa proprio Di no Salve Salve Ehm Mi traduco un attimo La domanda Perché Non ci ho ben capito Molto Brothers C'è qualcosina Che non capisco Poi ritorniamo Cerchiamo di risolvere Penso che sia La cosa Migliore A tra poco A tra poco Ok bro Allora Sono andato avanti Ehm Perché Praticamente Erano praticamente Tutte esatte Tranne la dirt Ehm Perché Sono andato a tradurre La domanda E E effettivamente Poi gli sono andato a fare la prova In In Single player E effettivamente La Ehm La spugna Condivide Lo stesso Rumore E lo stesso suono Di quando viene piazzata E rotta Della dirt Quindi La domanda Era Mh Con quale non condivide Ehm Il 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 rumore Praticamente Allora This room Full block Double alpha slabs Che cazzo Allora Ah 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 Half block Ah ok È stata costruita Con Mh Con questi blocchi Mh Con quale saranno Questi qua Qui Ah che cazzo è il Il ritorno a un tuo hub Quello Fichissimo Ehm Half slabs Mh Non lo so Non lo so Penso al half slabs No Non è proprio Half slabs Brothers No 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 Purtroppo Non mi ricordo Io tutti i nomi Di tutte le cose In In inglese Minecraft Vanilla Ormai sono abituato A giocarlo In italiano E quindi Già Io Non mi ricordo Bene Le cose In italiano Immaginatevi Quanto me le posso Ricordare bene In inglese Quindi siamo Proprio messi Benissimo Però meglio Che ci facciamo Il Il trivia Adesso Che dopo Adesso vi faccio vedere Sleep Ok Qua Io prima sono andato Su Gras E avete visto Che Ah giusto Scusate Ehm Lui condivide I suoni Con il grasso Non col dirt Per questo Forse era questo Forse si Allora Slabs Half block Allora abbiamo detto Half slabs Half Mezzi blocchi Half block Serbe mezzi blocchi Slab Double Half slabs Half Mezzi blocchi Oh Che cazzo Il mio peggior nemico I creeper No non è vero Il mio peggior nemico Sono Non lo so Quali sono i miei peggior nemico Ragazzi Qual è il mio peggior nemico Ditemelo voi Nei commenti Secondo voi Qual è il mio peggior nemico Penso I enderman Proprio li odio a morte Però anche i creeper No Stavo andando in quello sbagliato Anche i creeper Ehm Ci mettono in loro Ecco Diciamo che Diciamo proprio di sì Stay Fans Slabs Flas Blas Blas Ok Slips Perfetto E abbiamo detto Grass Che è quello Giusto Perfetto L'abbiamo provato Ehm Abbiamo provato Half block E half slabs Proviamo Slabs Oh Allora Ehm Checkpoint Finalmente Quanti blocchi Di clay Vengono utilizzati Per fare Un brick Brick slabs Quale cazzo Quale cazzo è Brick slabs Brothers Sarebbe questo Brick slabs Ah Ne servono Ne servono nove Scusatemi No 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 Rileggiamo la domanda Allora Tanto ma moriamo Quindi Ok Grazie Allora Quanti blocchi Di clay Di clay Vengono utilizzati E convertiti Per Convertiti To a brick slabs Abbiamo detto Nove No Giusto Nove No Allora Tre Tre Sono Quattro Quattro Sì Sono tre Sono tre Sono tre Sono tre Perché Lui da Un blocco Di clay Un blocco Di clay Si fa Quattro Pezzi Quindi Quattro Pezzi Fanno Un Un po' Un macello Comunque E Quello Ok Che Quale cazzo Era la domanda Allora L'ossidiana È Conosciuta Per avere La Maggior Resistenza All'esplosione Blah Blah Which Quale M-more Envil Ah Quale di queste Ha la stessa Resistenza Ah End portal block Mi sa End portal block Mi sa End Ok 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 Anche perché le altre cose Sono cose abbastanza comuni Quindi Era difficile Avessero questa Grossa Resistenza Ehm Qual è Che cazzo Lavabo Allora Qual è il metodo Sicuro Per generare cobblestone Allora Quello di skyblock Che sarebbe Allora Placing water Ablow flowing lava Placing Ah Non Per Lava Ablow flowing water No Ehm Ah se io metto L'acqua sulla lava Esce la cobblestone No Se metto l'acqua sulla lava Esce la L'ossidiana Quindi Ehm Lava Water Sotto Sotto No Ehm Brothers Lava Abowater source Forse Questo No 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 Ehm Ehm Ho detto Abbiamo provato Placing lava Ehm Quale cazzo abbiamo provato Ehm Non mi ricordo più Brothers Bene Allora Water Abow lava source Sicuramente no Perché questa fa Ehm L'ossidiana Lava Abow water source Questa abbiamo provato E non è Ehm Water Abow flowing lava Flowing lava Sarebbe tipo Ehm Una cascata Proviamo Proviamo Questo No Lava above Flowing water Proviamo questo No Forse era l'altro Forse era l'altro Donazione fammi scendere Dai Che lentezza Brothers Che lentezza Donazione Scendi Perché devi farti aspettare Tanto per una morte Ehm Una cazzo di morte Fammi morire Basta Cioè ho sbagliato Quella è la posizione Per la mia Per il mio sbaglio Lo capisco Allora Abbiamo detto Water Abow Lava source No Ehm No Flow Abbiamo provato Noi Lava Abow flowing water Proviamo Abow flowing lava Ok Ehm Allora Tutti i biomi Hanno Un numero di D Ehm E fino là Ok For things like Superflat Allora All bioms Have any D Number Used for Superflat wars Ehm What is the biome Number for desert Ah E che cazzo Ne so qual è il numero F3 Se non mi sbaglio Ce lo dice No No Si Forse si Ma non mi ricordo Ah deserto E Dovrebbe essere Non lo so brothers Perché vedete A sinistra Metà deserto Però non so Quale sia Sinceramente Il numero L'ID Allora Vediamo ID Numero 15 Numero 18 Numero 2 O numero 6 Bella domanda I don't know Non ce lo da qua No 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 Ci dice solo bio Ma non ci da l'ID A meno che io non lo riesco a leggere Tutto bianco Dannazione Ok Eh Tutututututututututututututut No Non ci da l'ID Effettivamente Non ci da l'ID Quindi Sarebbe da capire un attimino Quale cazzo è Eh Proviamo 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 Con il 6 Non è assolutamente il 6 E il creeper arriva a romperci il culo Ok Li provo un attimo tutti poi vedo quale è Ve lo dico due secondi Ok bro allora dovrebbe essere il 2 Dovrebbe essere il 2 perfetto Oh lo birch Allora Il birch trees Tututututu Allora guys facciamo che siamo arrivati al 14esimo Finiamo questa cosa nel prossimo Nel prossimo episodio E continuiamo anche se mai iniziamo Anche un altro Un altro giochino Non so forse l'adventure non lo so Quindi lasciate tanti bei piaci Tanti bei commenti E nulla enjoy e credere ne sia con voi Bye bye